SuperSight 10 ti permette di gestire un elemento per il pagamento veloce tramite PayPal. Per farlo, accedi all'editor. Clicca l'icona indicata presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita per scegliere la posizione che intendi assegnare all'elemento. Clicca la voce PayPal dall'elenco degli elementi a sinistra. Scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. L'elemento in questione è così inserito all'interno della pagina. Una volta inserito, puoi configurarlo in modo da velocizzare il processo di ordine. Cliccaci sopra. Indica adesso le informazioni richieste. L'indirizzo email associato al profilo PayPal. Scegli dal menu a tendina la valuta da utilizzare. Indica il nome del prodotto, il prezzo del prodotto in questione, le spese di spedizione da associare al prodotto ed infine scegli l'allineamento che desideri. Clicca su Salva per salvare le informazioni inserite. Il widget è stato configurato correttamente. Nel caso tu voglia rimuoverlo, clicca su questa icona.